Insultati, minacciati, strattonati da chi doveva prendersi cura di loro e invece li maltrattava in curante del loro stato di fragilità e solitudine. È successo in una casa di riposo per anziani di Trieste gestita da privati. Due operatori sociosanitari, un uomo e una donna, sono stati arrestati dalla guardia di finanza del primo gruppo che ha condotto accurate e delicate indagini anche attraverso telecamere nascoste nella struttura polifunzionale. Telecamere che hanno ripreso diversi episodi di prepotenze nei confronti di persone anziane e malate. Accertamenti che noi abbiamo eseguito nei mesi di giugno e luglio con anche riprese tramite telecamere. In questo modo effettivamente abbiamo individuato la responsabilità di due operatori socioassistenziali che in diverse occasioni hanno assunto dei comportamenti vessatori nei confronti di anziani ospiti non autosufficienti praticamente e questi comportamenti si sono in pratica insomma consistono in strattonamenti insulti in confronti di queste persone. L'indagine è partita da segnalazioni degli stessi anziani o da loro parenti. Quando ci troviamo davanti a questi reati quello che appunto colpisce è proprio dispiace insomma la tipologia di vittime è sempre sbagliato ovviamente insomma maltrattare chiunque sia però in questo caso le indagini infatti sono state eseguite in maniera molto minuziosa in maniera molto delicata proprio perché appunto parliamo di persone anziane spesso sole non autosufficienti. I due operatori dipendenti della struttura sono stati posti agli arresti domiciliari, misura ritenuta necessaria dall'autorità giudiziaria per evitare che potessero reiterare i loro comportamenti delittuosi nei confronti di quelle persone di cui avrebbero dovuto prendersi cura. Noi rimaniamo a disposizione comunque della cittadinanza se ci fossero se qualcuno volesse fare altre segnalazioni e noi siamo siamo a disposizione insomma come forza di polizia ovviamente. Grazie. Grazie. Grazie.